bello a tutti ragazzi benvenuto a questo nuovo video di vibra nera oggi oggi dovremo oggi oggi dovremo 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 cercare qualcosa tipo un gioco aspettate un gioco un gioco dammi il casco ti prego non ci arriverai mai dammi il casco c'è un gioco tanto il tuo casco vabbè dovremmo catturare un gioco fai aspettate domina ok quasi io non sono indietro sono intelligente sta scendendo il gioco aspettate quasi preso ragazzi piglielo te pigliato bravo così ora lo porteremo alla luce vieni alla luce perché qui non si vede molto questo è il nostro primo animale che abbiamo catturato come piccolo basta che non lo stringi ecco metterlo qui guardate ragazzi questo è un gioco dei muri normali vai no lo metteremo qui dammi dammi lo metterlo lì nella terra nella terra ragazzi guardate quanto è bello no 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 eccolo oh facciamolo andare dai portiamolo dove era ok io faccio uscivo già qualcosa portiamolo dove era vai c'è che ho qui io eh c'è chi ho parlato ragazzi lo dobbiamo riportare guarda eh perché non lo so non è la chi ho qua sì perché io con i jackie non ci so fare ma con le lucertole verdi so capace tanto con i jackie non siamo molto amici io sì libero ecco ragazzi non si vede nulla però oh non si vede nulla qui jackie non scappa vabbè la ce l'ho qui ragazzi non si vede nulla se volete vedere ma non lo riesco a vedere è troppo piccoletto è qui non si vede nulla peccato ah è vivo no 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 sì è vivo a che volevi tanto ragazzi dovete ringraziare mio fratello aspetta andiamo alla luce perché? dovete ringraziare le cattole tutte le fatte vedi tu ok dici morsa della vibra morsa della vibra bella ragazzi bella ragazzi no devi ridire così bella ragazzi no devi ridire mosso della vibra bella ragazzi mosso della vibra bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti